Sono molto contento quando si esce sul campo e tutti i bienti di applaudire. Allora, non so, mi dispiace solo perché l'anno scorso non potevamo fare qualcosa in più. Perché tutti sappiamo com'è la situazione allo scorso e ce l'abbiamo già fatto l'ultima partita per stare in Serie A. Speriamo di questo anno faremo molto meglio e con più gol e più vittoria. E' certo che dobbiamo imparare l'anno scorso. E' certo che è stato bello ogni volta che si è entrato in campo e la gente dimostrare il suo afecto. E' sempre bello e per questo dobbiamo ringraziarlo perché siamo doani e ancora dobbiamo entrare tante volte. E' certo che quello che ha fatto Chiesa è quello che abbiamo tutti i giocatori qui in Argentina. Perché essendo un progetto bene con lui ha fatto tanto. E' il nostro obiettivo è arrivare a arrivare lui. Come può essere?